Eccoci in diretta dalla Fiera di Varese e sono con Antonio di Biodomus. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Allora, Biodomus case da vivere. Questo vostro motto dice già tutto? Esattamente. Biodomus è un'azienda che esiste da svariati anni ormai nel panorama edilizio. Siamo un'azienda, io dico sempre, trasversale, in quanto ci occupiamo di casa a 360 gradi. Infatti qua nel vostro stand, che tra l'altro è enorme, vedo sia dell'arredo bagno, delle scale, con un design molto moderno e innovativo, ma anche dei materiali. Quindi uno può anche scegliere, personalizzare? Assolutamente sì. Abbiamo prodotti sempre moderni, innovativi, all'avanguardia, anche di design, un po' per tutti i nostri materiali. Perché noi partiamo da quella che è la progettazione, nel senso che Biodomus collabora anche con uno studio di progettazione, per cui siamo in grado di partire per esempio dalla pratica edilizia, per poi andare a fare le scelte dei prodotti da utilizzare, tutto personalizzato, fino ad arrivare alla realizzazione della casa. Quindi, se io volessi farmi casa nuova adesso, un consiglio proprio così, qual è un oggetto, un materiale su cui devo puntare, imprescindibile, che voi mi consigliate? Per esempio, in fiera, i clienti possono venire a vedere, toccare con mano, le lastre in grass porcellanato, che sono prodotti sicuramente, diciamo, tecnologicamente avanzati, in quanto sono lastre che arrivano a 1,60 m per 3,20 m, con spessori dai 3 ai 5 mm, per cui si risparmia anche molto materiale, da questo punto di vista il materiale è sicuramente anche ecologico. Quindi, non sono più comuni piastrelle, ma anche se le definiamo piastrelle, ma sono lastre che si prestano a svariati usi. Noi non le dobbiamo intendere più come un pavimento o un rivestimento, ma, per esempio, io posso andare a realizzare qualsiasi cosa che mi viene in mente, magari un tavolo coordinato col pavimento, un top di una cucina, piuttosto che un mobile da bagno. Possiamo lasciar spaziare la fantasia. Diamo tutti i vostri riferimenti per i nostri ascoltatori che sono curiosi di scoprire i vostri prodotti. Beh, Biodomus è un'azienda che si trova a Besozzo, in provincia di Varese, in via Leonardo da Vinci, numero 8. Abbiamo uno showroom ampio, sono oltre 500 metri quadrati, dove il cliente può venire a trovare tutti i materiali, dove l'architetto trova un'area a sua disposizione e può anche lavorare da noi in autonomia con il proprio cliente, con l'utente finale. Perfetto, quindi sappiamo dove trovarvi. Grazie mille per essere stato con noi su Radio Millennium. Grazie.